Non volti pagina perché sei pronta a farlo. Volti pagina perché quella che eri prima ti va stretta. Ho riconvertito la mia cucina. Lo sapevi che il forno non serve solo come dispensa? Credevo di andare così bene, avevo superato l'intero primo anno. Il modo in cui hai voltato pagina, siamo fiere di te. La vita è troppo breve per non provare qualcosa di nuovo. Sono sul punto di fare qualcosa di molto stupido o estremamente liberatorio. Io non so chi sei, c'è qualcosa che non mi dici? Salute. Lavora per me. Ma i miei figli hanno ancora più bisogno di me adesso. Sei ubriaca? Ho bevuto qualche bicchierino. Ti porterò nel posto ideale per incontrare uomini singoli. Ora capisco, queste avventure di una notte sono fantastiche. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ragazze. Per fortuna siamo tutti inconsapevoli di quando le nostre vite stanno per cambiare. Lo farai? Sì, lo farò. E fu così che mi resi conto che non sai mai cosa ti porterai domani. Stare qui con te è come se dieci anni fossero... No, strutti. No, strutti. Stare qui con te. No, strutti. And act as well.